bella a tutti ragazzi e ragazze benvenuti in questo nuovo video io sono Angel11 e oggi siamo qui in compagnia di Dibal10YT che anche lui fa video su youtube mi ha condannato a seguire se volete e oggi siamo qui sempre sul account secondo account che ormai come avete visto è diventato il primo account e appunto giocheremo con Dario per andare alle 900 coppe come vedete ho trovato Ocetto prima di starzare il video ho praticamente aperto una cassa e ho trovato Poce quindi lo andiamo a livellare un po' allora startiamo subito con sopravvivenza in duo ok ho abbassato l'audio raga se no non si sentiva niente vieni con me sulla testa vieni si un attimo che adesso si è caricato ok aspetta ecco adesso si è caricato ok aspetta che sta allargando mamma mia ok aspetta che sta allargando ok aspetta che si è caricato ok aspetta che si è caricato bel team è il primo rosa vabbè dai quattro squadre rimaste andiamo verso l'alto andiamo a dare fastidio a beryl oh mio dio grande free oh porca robin sei power up gg vieni 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 grande occhio vai 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 grande due squadre malenti eccoli vieni vieni dai ce la dobbiamo fare mamma mia occhio occhio che non è finita sì vittoria perfetto e io già con questa vittoria sono arrivati alle 900 coppia e sgiri dai ragazzi ce la dobbiamo fare allora dai 901 coppia raga nel prossimo video spolliciate per un prossimo video cercherete mi vedete già arrivato alle 1000 coppia vicino alle 1000 coppia dove andremo a sbloccare insieme quindi spolliciate appena un posto facciamo ricercati ok però togli pipe si metto rosa si questa mappa raga per scelli e bull è buonissima perché è tutta sicoria e abbiamo bull cattivissimi quindi occhio poi per non è che sia il massimo sta mappa ok fatto subito fuori occhio fuori occhio occhio non fa niente a che tanto ora deve venire di qua dobbiamo andare compatti occhio perfetto tento ma è macchillato macchillato grande scappate 21 18 è combattuta questa un altro colpo 25 ottimo forza non un po nella scicola loro nove stelle di differenza dai che costa occhio occhio supporto supporto a niente 31 21 ci sta vieni verso di noi vieni a ahia mamma di là 28 33 siamo ancora in vantaggio per ora no no ok 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 buono buono 40 no mi ha killato ok 47 42 di vita l'ho ucciso grande gg buona partita conclusa quattro pacchetti quattro casse si quattro casse buono vai vai intanto aspetto dimmi cosa dimmi cosa tu niente nella prima però ho trovato qualcosa ho trovato tre gemme dei biglietti degli eventi buono venne alla seconda vai e no l'ha aperte tutte a mince vai andiamo in sopravvivenza sopravvivenza ok cambio progola un attimo metto po certo vai startiamo dai c'è la dobbiamo fare questa partita doveva uscire si certo tre di fila andiamo dai vuole vuole prendi quella cassa lì io vado con la sua di sopra ok se ti attacca una pindana vai vai hai preso il power up di sotto si eh hai preso il power up di sotto si buono a 8 paura ci sto ci sto dai vai 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 ora e ora e ora vai 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 no non è vero non mi ha non mi ha fatto in tempo la ulti non ci credo sei paura poi me lo sto camperato ma proprio un secondo dalla fine ah si sei morto si e vabbè io ho fatto zero coppe dai facciamo l'ultima così ti recuperi le coppe cambia broiler metti la sp ok ok andiamo dico andiamo verso il 100 e tanto verso l'alto non c'è niente c'è solo una linta infatti ok vieni a sopportarmi su questa cassa buono vai vai andiamo su questa attenzione aspetta andiamo ce l'andiamo ce l'andiamo ce l'ora tavolo ah ma chi l'auto non è vero si buono ci sta boys dai vieni aspetto un po' ritorno andiamo a pushare questo di sotto no non quelli non quelli vabbè grande grande bravo ulti sprecata ma non fa nulla vai vai chiudilo dall'alto chiudilo dall'alto no non mi devi seguire si l'ultima l'ultima ok lo scordo in massa andiamo ce l'ho da me da me da me ok uno chillato andiamo sull'altra tacchi lato io me ne scappo io me ne scappo si scappo scappo bella bella non mi piglia ma ha pigliato nooo vabbè ci sta ci sta più 5 per me per te più 4 ok ho fatto il grado 2 su su pocio ci sta ci sta io direi di fare l'ultima partita in ricercati che ne dici così magari se la vinciamo no scherzo vai facciamo ricercati mettiti bullo è vero raga Dario c'ha un genio c'è di ballo c'ha un genio ha 25 coppia buono dai ci sta andiamo non andate a prendere la stella che è benabili la stella cavolo ti hanno chillato si io ho fatto il lato per me dove sei andato oh oddio stanno tutti qua stanno tutti qua non fa l'ulti non ci credo raga non è andata l'ulti madonna quanto rosi bu vai 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 bull vai Dario nooo gg eccolo eccolo ma come ho chillato vabbè vai impegniamoci questa ci può cambeccare però se giochiamo così ecco sì non penso ci la facciamo buono buono aspetta aspetta eh vabbè ma dobbiamo colpire bull è lui quello che c'ha molte stelle bravo bravo sì 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 aspetta madonna non mi capisco infatti madonna peccato ma non si può fare più nulla 20-33 dai a questo punto facciamo l'ultima e poi vabbè chiudo magari faccio un taglio tattico no 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 eh vabbè raga ci sta ci sta dai facciamo l'ultima proprio veloce veloce e poi concludo il video ok vai ok dai abbiamo con o si può fare se giochiamo bene si può fare abbiamo pure bombardino con noi che è ottimo non andiamo non andiamo non eh vabbè quello andiamo a cusciare di lì no ti vengo a supportare 4-1 cavolo boom ulti no mi sei andato no no vabbè gioco gioco da minchia no vabbè no non li andare non li buscerei sempre con l'ultima devono essere tattici no io non capisco perché non vado a urti vieni di qua double kill mamma mia siamo ritornati in vantaggio eh grazie a me che ho fatto una double kill della madonna oddio io sono morto me ne scappo no si buono 19 pari oddio ok 21 22 19 20 pari tanto sta qui rimaniamo nella ciccola rimaniamo nella ciccola vabbè dobbiamo andarlo a supportare eccolo madonna vai 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 bravo no no buono si 26 23 buono 29 23 no si 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 no vai 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 andatelo a killare killatelo si 22 28 non fatti vedere non fatti vedere intanto l'abbiamo vinta ok vinta mamma mia cosa avere fatto questa partita ok dai io direi di finire qui il video che dire raga se vi è piaciuto mi raccomando in iscrizione al canale è totalmente gratis spolliciate raggiungiamo almeno 5 like canale di di bal 10 in descrizione mi raccomando andrò a seguire perché è a mie armi e ci sentiamo in un prossimo video bella ragazzi